Facciamo i debiti scongiuri, però sembra che il ciclo si sia un po' invertito rispetto a qualche mese fa, che sono stati un po' di qualche problemino insomma. Le ultime quattro partite, a parte una che è stata da pareggio e altre tre vinte, anche in maniera assolutamente importante. Presidente è soddisfatto. Buongiorno a tutti. No bene, come dicevi tu, abbiamo fatto le ultime quattro partite, abbiamo fatto tre vittorie e un pareggio in casa. La squadra sta bene, in questo ultimo periodo sta bene, i nuovi arrivati si stanno inserendo bene. Noi proseguiamo questo percorso che speriamo ci porti a giocarsi alla fine con Legnago che sembra che sia quella la squadra adesso di riferimento. La squadra sta bene, domani giochiamo in casa, cerchiamo di continuare il ciclo delle vittorie, sperando che magari il Legnago ci faccia per qualche punto. Poi c'è anche l'amministrazione che mi sembra che è molto vicina, sta cercando in tutti i modi di andare avanti con questo campo sportivo. L'amministrazione ci ha fatto, ci ha fatto, ha sistemato un po' di cose qua all'interno del campo, siamo contenti. Ci manca ancora questa avvenita copertura. La copertura arriverà, arriverà. Tanto ci temperiamo al fresco. Va bene, allora ci vediamo domani qui al Ballarin, ore e due e mezza. Sicuramente. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata a Vallespluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri B.R.I. Befed. Befed, presso il parco commerciale Claudie per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.